Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Da sup Io sono qui in un mondo che ormai Gira intorno Dai due canzoni riusciamo a farle, facciamo prima questa qua di Notte in Bianco Ah è vero povero da sup Vabbè vaffanculo a me piace questa canzone, che gli devo dire È vero, mi sono divesticato Che ridere Allora qual è sta scala F sharp major Amici milanisti, porca di quella miseriaccia Perché se siete nella partita Elas Verona, Milan, appena segnate Gridate, interista pezzo di merda Chi non salta nero azzurro è E tutte le cose contro l'Inter Noi eravamo a casa, a farci i cavoli nostri Quando due giorni prima Anzi, il giorno prima Abbiamo recuperato una partita 0-2 4-2 E voi dove eravate? Voi dove eravate? Eh? Eravate là a godervi? Chissà se domani dobbiamo almeno pareggiare Vi prego perché l'Inter è troppo forte per noi Dai, ma dai, ma dai, ma dai Fate ridere, milanisti Fate ridere Ciao Se vi vedo vi crocco Ciao La situazione può esistere Ecco Infatto Secondo me è questa la situazione Pietro? Io sono d'accordissimo con Giulia Ma secondo me si ricollera molto un po' a tutti gli altri discorsi di gelosia nelle relazioni C'è l'estremo Quello è proprio l'estremo Questo è proprio l'estremo Ma alla fine siamo in quel mondo lì E' come quando si parla di La mia ragazza non può andare a ballare La mia ragazza non può vestirsi così Che sono Dall'altro estremo forse Però insomma Ah, ah Ok, ok Invece Il piatto preferito di Giulia, Mambo? Dipende come sta presa la ragazza È sincero? Se dovessi proprio dirne uno Eh minchia, così no Sono mezzo sotto pressione Eh, prova a pensare su sto Scusate ragazzi Scusate veramente ma Sta succedendo Ciao Ma che cazzo? Ma Ah, perché vuole Ho capito che succede Vuole maggiore visibilità Questa notizia Per questo ti ho scritto Vuole far vedere Con maggiore visibilità Questa notizia Spontanea Spontanea Esatto Quindi Qui ci sta Grazie a sapi Grazie mille 13, 12, 12 12, 10 No, 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 no Non così tanto Non così tanto Dai, raccontami un po' di te Cosa ti piace fare nella vita Sei fidanzata Sei fidanzata Sei fidanzata Sì, fidanzata sì Ok Da un anno Ah E niente Mark Ehi Chi sei? Un ragazzo Simpatico Ah, ciao Appena il tuo Allora Stavamo Stavamo Fottendo E Poche parole Che cazzo è successo Tipo E bro Lei si stava toccando Tipo E Mi ricordo come cazzo L'avevo messi E Cazzo Bro Mi sono fatto male Tipo Mi ha fatto male al cazzo Con le unghie Voi ti ha dato una sgraffiniata Sì, bravo Minca è uscito pure sangue Allora 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 Questa cosa qua Allora Un pacchetto di No Ancora No È ripartito il bastardo vecchio No È ripartito È ripartito quel cane di merda Ok È smesso È smesso È smesso È smesso È smesso Porca vacca Stavo impassendo Allucinante È pollicione No Ma è succedato piedi Non penso di farlo Poi se ciuccerò un piede Sicuramente ciuccerò quello di Giulia Poi Oh, che bella cosa Però non ciuccerò Non ciuccerò piedi Ma è successo un piede Però Ma a me sapevo Lo dici Ma mi scrivi Guarda Guarda Ho fatto Però una pipa coi piedi Può essere Che dico Giulia Sentiamo i twitcher Andiamo Facciamo una diretta a twitch Devo raccontare esperienza Una pipa coi piedi Bello 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 Siamo già in bannare Siamo già in ban totale Ma va bene No È CBD È CBD Ricordiamo Ma nessuno sa Ma nessuno sa Comunque allora Innanzitutto benvenuto Mambo Dimmi come ti posso chiamare Se ti chiamo Mambo Se ti chiamiamo Come vuoi essere chiamato C'è una preferenza che hai Ok Allora Benvenuto Mambo In questa live Benvenuto anche Giulia Anche se è la seconda volta Innanzitutto Dimmi Innanzitutto Grazie Bella bella Parlo con dieci persone Che mi risponde In continuazione Parlo 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 Per tre ore Due ore Quel cazzo che l'è Poi Stacco Silenzio Casa da solo Mi guardo in giro I muri I muri mi parlano Con il gattino Con il mio gatto Comincia a fare Comincia a scrivere a tutti Invece che ha comunque Esatto Comincia a videochiamare Miles Capito Ciao Che cazzo fai Cattomanti Ciao Mi sento solo Quello è il discorso È molto più No Non è vero È bannabil Sì ma Sì È bannabilissimo No Ma l'hai fatto tu quel quadro? Sì Che ha fatto lei? Aspetta Non facci Vedere Beh ma tanto dove Oh Accendo la luce Casa ha cambiato Completamente forma Bello Sei un artista Ma è stato tipo Un filo spinato dietro Perché è tipo Il tuo Il tuo viaggio introspettivo Con te stessa Allora Ora ve lo spiego Vi faccio vedere anche l'altro E ve lo spiego Ok E l'altro Non ho fatto niente È quadro Sei fidanzata Deborah? No Ah questo qua rappresenta il dualismo tra il male e il bene immagino Angelo e divano Ora che spiego Twitch però non ho presente il mondo di Twitch Nel senso non ho mai capito Però figata Sì sì Sono delle dirette dove noi intratteniamo la gente parlando e diciamo facendo cose tipo Cazzate Insomma sono cazzate in poche parole Esatto Sono delle cazzate Sì 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 esatto Allora quindi benvenuti entrambi in questa diretta Allora vi spiego cosa succederà Cari Mambo e Giulia Allora questo qua è un format che abbiamo inventato Ah ma c'è anche Giulia Sì c'è anche Giulia Ma voi non vi vedete Non vi Non lo so Cioè se proprio avessi dovuto dirne una senza conoscerlo Dicevo Certo E una in generale Scaccolo libero Oddio non ce l'ho Non ce l'ho però Sì ascolto I cani Quindi sarebbe stato tipo una di No no Che c'entra nei cani Ho detto domenicani Ok Quindi Comunque è molto simpatico Mambo C'è poco da dire No ma è stata Se siamo ammazzati Per me è stata bellissima Vabbè poi dall'occhio di miei Ma pure la chat penso si è divertita Sì 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 È stata È stata molto molto divertente Molto divertente Va bene David Dai Ci vediamo alla prossima Ci vediamo Ci vediamo Sabato Domenica Ci vediamo Che c'è ma Oggi Oggi è Sabato andiamo a Oggi giovedì Anche tu sei simpatica Molto simpatica Molto molto simpatica È un piercing sul naso Che è vero Io volevo prendere Cioè volevo fare anche quel piercing Perché spesso mi tolgo le caccole E avere quella roba lì mi farebbe un po' da leva No Sarebbe comodo Sarebbe veramente comodo Va bene Elisa Ti lascio Ti lascio da sola La sera prima eri in bagno con un tipo Però nel mio bagno Non ci vuoi venire? Come funziona? Non so Sarà stata l'impressione dell'aperitivo Non lo so Come è andata? Era rilassata? Un buon aperitivo Era un Era Abbondante anche Che ci hanno portato tante cose Sì sì ma di più Cosa ti lamenti? Tra voi due Com'è stato il No c'era feeling Sì o no Lì Stare messo a fuoco Ampia Doveve stare in ampia Cioè oh Cioè che non deve essere Ampia Ampia Ok Ho messo ampia Dovebbe andare bene Ciao Grande bro Però aspetta a sto punto Viva le tippe quadrate Lorenzo Mercurio il grande Ok guarda che qua Lorenzo Mercurio Il mio naso di profilo è perfetto Sì è vero Mettilo davanti C'è quattro nasi Sì è davanti Sì è davanti Grazie Grazie Stai arrivando Mustapà Non farlo vedere la foto Che gliel'hai detto Se posso Ho detto Porcodio Dio 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 Ah vero